A lezione di cinismo dal Nardò, nel 2024 la squadra di Nicola Ragno ha segnato 4 gol in 4 partite, totalizzando 10 punti e recuperandone 4 sulla capolista team Altamura. Oggi a più 2, la vittoria di Barletta ha rappresentato il risultato utile numero 15 sulle ultime 16 partite giocate. La firma vincente è stata quella di Luca Guadalupi, miglior marcatore Granata, con 6 reti. Non mi era mai successo, però grazie alla voce, grazie ai miei compagni, al mister che mi mette nelle condizioni migliori, è andata bene, quest'anno sta andando molto bene sotto il profilo realizzativo. Sono molto contento di essere stato determinante e ancora più contento del risultato ottenuto. Sintesi di una squadra che ha preso un gol in più dell'Altamura, 15 a 14, ne ha segnati 5 in meno, 31 a 36, ma tiene il passo della capolista. Siamo partiti male, inizio campionato abbiamo fatto delle prestazioni, ad oggi lo posso dire, vergognose. E forse i nostri pochi risultati sono arrivati pure grazie al fatto di giocare al mattino dove c'era un po' meno pressione. Adesso che le cose vanno bene, giocare allo stadio in casa nostra è tutta un'altra cosa. Solido, quasi granitico, capace di ottenere il massimo senza goleade, questo il ritratto del Nardò 2023-2024. De Giorgi esalta il gran lavoro fatto dai primi difensori, gli attaccanti. La nostra differenza la fanno soprattutto il reparto offensivo. Chiunque gioca, gioca. Non voglio fare nomi perché sono tutti giocatori che per me sono dei top di categoria. Se loro si sacrificano, se loro ci fanno arrivare sempre palle sporche dietro, per noi è molto più facile difendersi e poi eventualmente ripartire. Al cinismo fa da contraltare la necessità di imparare a chiudere prima le partite. Il pareggio di Pagani è l'insegnamento più recente sulla pelle del gruppo allenato da Nicola Ragniu. Quando passiamo in vantaggio dovremmo essere un po' più cattivi nell'andare a chiudere le partite. Però poi purtroppo alcune volte ci riesce, altre no. Nell'episodio di Pagani, ad esempio, purtroppo l'episodio ci è girato un po' a spavore, però fa parte del calcio. Domenica 25 febbraio Nardò e Altamura saranno avversari al Giovanni Paolo II in uno scontro diretto che può valere una stagione. Prima D'Ambros e compagni ospiteranno il Casarano e giocheranno sul campo del Gallipoli, due derby del Salento. Sono importanti per decretare chi può ambire e vincere il campionato. Però noi guardiamo in casa nostra, analizziamo domenica dopo domenica e ci prepariamo il meglio per la partita con il Casarano. Il derby è sentito, i nostri tifosi ci tengono, la società ci tiene e noi ci teniamo a fare bene. Siamo consapevoli del fatto che possiamo sbagliare poco e che siamo lì dietro a inseguire. Però è bello, è bello.